Quest'estate facciamo salire la temperatura qui su AXN. Ogni lunedì uno dei nostri eroi è pronto ad infiammare le vostre serate. Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme sono i protagonisti assoluti di un'estate davvero bollente. È arrivata l'ora. Carina quella pistola. Lunedì alle 21, fuga da Los Angeles su AXN, la TV in azione. Grazie a tutti.